Ciao a tutti, buongiorno. Come vedete, questa immagine eloquente ci ricorda che i calabresi aspettano le dimissioni del Presidente della Regione Calabria, Oliverio, da ben 24 giorni. Allora, io con voi voglio fare un break da questa giornata per una riflessione in condivisione. Vedete, in Calabria, come sapete, non funziona quasi nulla. È una regione disastrata per tante motivazioni. Sicuramente le influenze della criminalità organizzata, delle mafie, hanno influito molto sulla assoluta povertà della Regione Calabria. Perché l'Andrangheta ha deciso che la Calabria deve rimanere povera, a cabina di regia, dove soltanto pochissimi si arricchiscono a discapito di tutta la comunità. E tra l'altro si manda avanti questa narrazione errata, sbagliata, falsa, per cui chi entra nel gioco delle endrine si può arricchire. Beh, sappiate che la maggior parte delle persone che ne fa parte è manovalanza, è carne da macello, ad arricchirsi sono in pochissimi e fanno anche una brutta vita. Quindi la sfida della nuova umanità che sta andando avanti deve essere quella anche di far comprendere che la strada del compromesso a ribasso delle mafie non è conveniente, non rappresenta in alcun modo bellezza o valori che possano essere condivisi. Allora, in Calabria purtroppo ci ritroviamo a dover commentare queste notizie perché il presidente della regione Calabria, Oliverio, è stato oggetto di questo provvedimento per cui ha l'obbligo di dimora, cioè non si può muovere dal suo comune di origine che è San Giovanni in Fiore, un bellissimo posto tra l'altro in provincia di Cosenza che conosco bene e a cui mi legano tante belle storie e amicizie veramente forti. Bene, voi pensate che un presidente della regione nell'ambito di queste inchieste, l'Ande desolate, coordinato dal procuratore Gratteri, dalla direzione distrittuale anche antimafia, possa mai governare la regione Calabria dal comune di residenza, io credo che sia inaccettabile che questa soluzione ancora una volta per parare interessi di sicura di natura collettiva è inaccettabile per i calabresi. Allora torno a fare un ragionamento grande che riguarda la questione del sud e della Calabria soprattutto perché nell'esperienza che ho fatto sia in politica, nell'attività universitaria, nell'ambito della mia esperienza all'interno dell'associazionismo ho visto e toccato con mano che tante volte in Calabria non riusciamo ad organizzare la rabbia, questo sentimento di ribellione, le ingiustizie, questa volontà di non soccombere all'assegnazione. Ecco, tante volte non abbiamo il coraggio di organizzare questa nostra spinta di ribellione e questo penso che sia la sfida davvero maggiore che devono affrontare i calabresi, il sud in generale, perché vedete la cricca di Oliverio così come in passato ce ne sono state altre, io penso che siano tutti la stessa cosa perché sono alternati al potere una volta nel centro-destra, una volta nel centro-sinistra senza mai cambiare nulla perché gli interessi di pochi sono sempre gli stessi e la collettività deve morire per rispondere a questa volontà fameica di accaparrare potere, di accaparrare postazioni e l'abbiamo visto per esempio nell'ambito della sanità di cui mi sono occupata tante volte. Allora, dobbiamo anche fare una riflessione del passato. Allora, in passato tante opportunità di cambiamento non sono state colte a pieno dalla Calabria. In ultimo però sì perché i calabresi hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle e a questa spinta davvero rivoluzionaria, inedita per la politica italiana ed europea brutta. Ma andiamo a concentrarci su quello che è accaduto nel passato nella regione Calabria perché noi non possiamo prescindere dal fallimento che abbiamo subito, dalle a volte inadeguatezze delle proposte. Quando vinse le elezioni regionali scopelliti che purtroppo anche lui è stato oggetto di vicenda giudiziaria e l'abbiamo più volte incalzato anche per le questioni sanitarie. Sicuramente abbiamo influito e continuiamo ad influire nel denunciare ai calabresi le legittimità e le legalità di cui si sono macchiati alcuni politici regionali e non. C'è stato un momento storico in cui in Calabria per sanzionare la sinistra di Loiero, ve lo ricordate, venne scelto comunque di far avanzare per alternanza, in maniera antagonista, il centrodestra e si scelse scopelliti. Durante quelle regionali c'era nata una forza civica importante secondo me che dava speranza, che era la coalizione che faceva capo all'imprenditore Pippo Callipo. Vedete in quel momento io sostegni assolutamente quella lista, ero una semplice cittadina nel senso che non ricoprivo alcun ruolo istituzionale e ho creato e creduto soprattutto, ho creduto nella capacità di organizzare il coraggio e di fare rete fra le energie buone della Calabria e quindi ci fu questo tentativo di sostenere un imprenditore che comunque rimane di successo e anche di testimonianza per tante vicende e si sostenne Callipo ma non tanto abbastanza da vincere contro la grande accozzaia di partiti e di persone e di lobby che decise poi di sostenere scopelliti e abbiamo visto che fine a fatto adesso è in carcere per altre vicende giudiziarie. Bene, oggi ci ritroviamo ad avere il Presidente Oliverio ma nel 2014 io ricordo che il Movimento 5 Stelle ha tentato la strada di una lista regionale. a 2014 venivamo dal grande successo che il Movimento 5 Stelle aveva avuto nelle politiche nel 2013 che portò per la prima volta persone non legate alla vecchia politica, giovani, col casellare giudiziale pulito grazie a tutti grazie a tutti Il Movimento 5 Stelle non dobbiamo dimenticare gli errori del passato e non dobbiamo ripeterli in questo ovviamente seguendo le direttive di Luigi Di Maio che presto immagino arriveranno per le prossime regionali in Calabria io penso che in Calabria serve qualcosa di effettivamente di straordinario, di effettivamente grande ed impeccabile allora io voglio dare forza a tutti gli attivisti, ai sostenitori, ai simpatizzanti, a chi ognuno con i propri mezzi, con le proprie virtù e i propri limiti sta cercando di dare una mano a questo evento storico che è straordinario del Movimento 5 Stelle perché ancora non ci si crede ma il Movimento 5 Stelle davvero riesce ad avanzare e a sostenersi sulle gambe delle persone che portano avanti quei valori perché guardate sicuramente noi dobbiamo aspettare delle direttive delle macro direttive politiche che arriveranno dal Movimento 5 Stelle nazionale che oggi è capeggiato da Luigi Di Maio ma per il resto miei cari concittadini calabresi non c'è da aspettare la parola di me, della Nesci, di Di Maio o di chiunque altro qui c'è davvero da mettersi in prima persona, in primo piano e dare un contributo e poi decidere se effettivamente stare nel Movimento 5 Stelle attraverso una candidatura che deve essere frutto davvero di un convincimento perché non è detto che alle regionali riusciamo ad avere lo stesso successo la stessa forza del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, noi in Calabria, ripeto, dobbiamo essere ancora più grandi, straordinari, impeccabili perché ci sono dinamiche complesse per cui in Calabria poi si tende a votare per il vincente cioè per colui o per chi risulta vincente in quanto le dinamiche delle mafie, della criminalità organizzata, della pressione culturale, del compromesso che c'è in tutta Italia, ma in Calabria la capa culturale si fa sentire tantissimo non c'è davvero la libertà di fare impresa legalmente, chi la fa, la fa con tanta fatica e ogni giorno deve ricordarsi perché fa quei sacrifici e io prendo sempre come simbolo l'imprenditore della Pia di Gioia Tauro, Antonino De Masi da poco ci ha lasciato Ruello, Amico Valenze, sono poche ma fortissime le testimonianze di imprenditori ma anche di persone, ricordo con tanto affetto con Giusta e la sua famiglia che si ribellano a dinamiche mafiose e lo fanno, pensate, per una cosa che sembra semplice che sembra banale, per la forza delle idee perché credo in qualcosa di grande, in qualcosa di forte che può spingere poi attraverso le azioni a modificare la realtà circostante allora io voglio dare forza a chi crede nella rivoluzione culturale attraverso le idee, attraverso il pensiero, attraverso la parola guerriera che poi si fa azione per condividere, per organizzare allora voglio lasciarvi, ricordarvi purtroppo che siamo in queste condizioni se ti puoi avvicinare, mostriamo che i calabresi attendono le dimissioni del presidente Oliverio da ben 24 giorni ha scelto questa immagine della Calabria in gabbia una Calabria che è ostaggio di queste dinamiche ormai fallimentare, vecchie dove è un presidente di regione che ha fallito in tutto e non ha fallito solo lui, ha fallito lui e tutta la cerchia di persone attorno e tutto il consiglio regionale perché io ricordo che non c'è mai stata opposizione reale a Oliverio in nessuna delle vicende in cui noi siamo intervenuti e su tutti parlo della sanità perché è una tematica che ho seguito con coerenza, con migliaia di denunce alla procura della Repubblica e non è possibile che in Calabria la svolta ci sia soltanto in ambito giudiziario per il quale voglio ringraziare ovviamente Nicola Gratteri tutti i magistrati, i PM che stanno dando prova di far avanzare la legalità e la giustizia ma per la giustizia sociale serve la politica, una politica nuova quindi un cambiamento è necessario e la prima cosa da fare è che questo presidente di regione per dignità personale che a questo punto non spetta a me giudicare ma per davvero dare uno sguardo di speranza ai calabresi perché la situazione è diventata imbarazzante quindi io vi propongo di condividere questa immagine che sto pubblicando sia sulla mia pagina pubblica ufficiale che sul mio profilo privato di scaricare questa immagine come me e condividerla su Facebook come sto per fare io quindi condividiamo ecco qui, fate lo stesso e facciamo camminare quest'idea di riscatto della Calabria quindi innanzitutto un presidente di regione che si dimette per fare spazio al nuovo all'organizzazione del nuovo e poi dall'altro lato come calabresi e sicuramente come Movimento 5 Stelle dobbiamo dare forza, capacità e testimonianza di rivoluzione vera ciao a tutti e buona giornata